Rousseau è l'opportunità per i cittadini italiani di decidere sul cosa, sul come si debbano spendere i soldi delle loro tasse, su come si debba riformare i vari settori pubblici e privati di questo paese. Oggi cos'è che presentiamo? Oggi è attivo, se chi è iscritto oggi va, si linka, si logga all'interno del sito di Rousseau, troverà una nuova voce, questa voce si chiama l'ex iscritti e ci permettiamo di dire, dopo aver verificato in altri paesi, in altre democrazie evolute, come sia una sorta di prima mondiale. Che tu sia un cittadino di Lampedusa o di Aosta, che tu sia un cittadino sardo, che tu sia un cittadino di un comune di 200 abitanti sul cucuzzolo di una montagna, puoi diventare un legislatore, puoi scrivere una proposta di legge e depositarla in Parlamento. Abbiamo presentato a Grasso una proposta di legge per dimezzare gli stipendi dei parlamentari. Ieri l'incontro con Grasso, oggi quello con la Presidente Boldrini, entrambi molto contenti dei risultati ottenuti con il microcredito. Soprattutto la Presidente Boldrini è convinta, anche lei con il Movimento 5 Stelle, che sia necessario un taglio ai costi della politica. Oltre 17 milioni di stipendi e esercizio del mandato che ci siamo tagliati abbiamo restituito allo Stato e messi nel fondo per il microcredito, al quale hanno acceduto oltre 1700 piccole imprese italiane. Il progetto è quello dello smantellamento, bello e buono del diritto alla salute e alla protezione. Ci state riuscendo benissimo. Quindi parlare di dopo di noi e di per sé la dimostrazione del fallimento di un welfare già povero di idee è sempre più fragile nelle soluzioni. In questi giorni è pervenuta una lettera al Presidente della Repubblica, da parte di familiari, di disabili, nella quale si rivalisce il concetto che questo disegno di legge non risponde ai cittadini e ai loro bisogni, con la preghiera di non firmarla. La loro alternativa da noi condivisa è stabilire che le risorse previste nella legge di stabilità che ammontano 90 milioni di euro siano così ripartiti, 60 milioni ad aumentare le risorse destinate per l'anno 2016 al Servizio Sanitario Nazionale e 30 milioni ad aumentare le risorse del fondo per le non autosufficiente. In questo modo sbagliato di gestire il welfare è il vero artefice di tanta disperazione. Presidente, il dolore più grande per una persona, penso sia a non sopravvivere al figlio. Ma forse ce n'è uno ancora più lacerante. Quello di desiderare, in modo inconfessabile, che il figlio disabile possa con i genitori finire la propria esistenza. Dramma a questo che pesa come un macigno nella coscienza collettiva. Per tutti questi motivi e per molti altri ancora, ancora Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà decisamente no a questa proposta indegna di disegno di legge. Renzi ha affermato che il Job Act è la cosa più di sinistra fatta negli ultimi 30 anni. Lo correggo, è la cosa più sinistra, nel senso di nefasta, fatta negli ultimi 30 anni. All'aumentare sono solo i contratti precari, più 22% i contratti a tempo determinato, più 45% i voucher, alla faccia di Renzi che annunciava la fine della precarietà in Italia. Sul Job Act, voi dovreste ammettere il fallimento, perché una volta finito il doping degli sgravi fiscali, sempre soldi nostri, sono crollate le assunzioni, i contratti a tempo indeterminato, tra virgolette, del 77%. Poi oggi lei, Ministro, non ha menzionato l'ennesimo crollo, tra l'altro il peggiore dal 2013 ad oggi, del prodotto industriale, del fatturato industriale. Secondo l'Istat, meno virgola 3,6% in meno. Noi abbiamo un'altra ricetta, abbiamo il reddito di cittadinanza. Voi invece avete, con i soldi nostri, drogato un mercato, di fatto neanche creando posti di lavoro e neanche creando la domanda. Infatti, gli 80 euro che avete dato, 10 miliardi sono costati, non hanno rilanciato i consumi, perché l'Italia è in deflazione, Ministro. Ci sono giovani, 50 mila giovani che scappano dal sud. Oggi un lavoratore di 50 anni che perde il lavoro, che scelta ha davanti? Scegliere tra una marca e un'altra di uno psicofarmaco, questo gli è rimasto al 50enne o al 60enne di trovare lavoro. Voi un unico contratto avete fatto a tempo indeterminato, tra l'altro a tutele crescenti, a Verdini, corrotto per corruzione. Forniamo i dati della controconsultazione pubblica che abbiamo iniziato oltre due mesi fa sullo status di economia di mercato alla Cina. Un'azione di democrazia diretta che il nostro movimento ha voluto portare avanti anche in Europa. Il dato è eclatante. Oltre il 91% di quelli che hanno partecipato hanno detto un chiaro no allo status di economia di mercato alla Cina. Hanno confermato la loro partecipazione oltre 6 mila persone di 19 stati sui 28 dell'Unione Europea. Un risultato importante che ci consente di fornire questi dati alla Commissione Europea che non potrà ignorare quello che è stato fatto dal Parlamento e dal Movimento 5 Stelle. A luglio probabilmente la Commissione uscirà con un suo parere, una sua posizione e là la nostra battaglia continuerà fino a dicembre per monitorare passo dopo passo quello che la Commissione sta facendo. Lo faremo noi come parlamentari, lo faremo insieme alle associazioni di categorie, agli imprenditori, ai cittadini. Noi stiamo chiedendo la stabilizzazione, quindi l'assunzione di 12 mila persone con un piano pluriannale all'interno della scuola. Perché 12 mila persone sono poste accantonati da quando è partito questo sistema di esternalizzazione del servizio di pulizia. Noi continueremo a proporre la nostra soluzione e continueremo a dire, a ammonire questo Governo che se continua ad andare avanti su questa strada e non a internalizzare il servizio, i danni saranno sempre maggiori e le spese per lo Stato saranno sempre di più. Vi sembra da Paese civile il fatto che, insomma, noi consentiamo che ogni giorno i nostri ragazzi, i nostri bambini frequentino scuole con amianto, scuole non a norma, scuole prive dei certificati antincendio, scuole costruite negli anni 30 e 40 quando ancora non esisteva la normativa antisismica. Ecco, a noi questo non sembra normale. Secondo noi questo non sarà un Paese civile finché tutte le scuole d'Italia non saranno sicure e accoglienti. E quando il Movimento 5 Stelle sarà al Governo, questa sarà per noi una priorità assoluta. Le scuole private paritarie devono, sono tenute ad accettare gli alunni disabili e ci mancherebbe, ci mancherebbe altro, senza chiedere nulla allo Stato. Quindi il Governo non deve nulla alle scuole paritarie. I interferenti endocrini sono sostanze nocive. Le possibili patologie correlate sono malattie riproduttive, comportamentali, malattie dell'apprendimento, cancro. La Commissione europea avrebbe dovuto definire la lista, ma non l'ha fatto. Per questo noi abbiamo presentato una mozione di censura. Tutti coloro che non hanno appoggiato la mozione di censura dico fino a che punto dovete seguire le indicazioni delle lobby. I verdi sono quelli che fanno i discorsi più belli qua dentro. Peccato però che quello che dicono è tutto il contrario di ciò che fanno. Io adesso ho capito perché i verdi sono scomparsi dal panorama politico italiano. Ai deputati di Podemos e ai comunisti del GUE che avevano firmato la mozione di censura ma che poi hanno ritirato la firma per non accostare il loro nome a quello della Le Pen dico che sono completamente fuori dalla storia. Sono come quei giapponesi che continuano a combattere perché nessuno gli ha spiegato che la guerra è finita. E sono convinto che se avessero la possibilità di salvare una vita umana prima andrebbero a controllare se da qualche parte c'è la firma della Le Pen. Questa non è una stupida guerra ideologica tra sinistra e destra. Questa è una guerra maledetta tra sfruttatori e sfruttati. Perciò noi ce ne andiamo a casa a dormire con la coscienza pulita stasera. Io non credo che altri possano dire la stessa cosa. E francamente potervelo dire in faccia non ha prezzo. Grazie. Oggi abbiamo dinanzi a noi un disegno di legge delega al governo sul terzo settore scritto e modificato dal governo stesso. Non è un mistero che molti tra esponenti del governo e colleghi di questa assemblea abbiano legami e interessi con questo mondo ricco e diversificato. Ci sono però altri soggetti dietro le quinte. In particolare proprio quel Vincenzo Manes, superconsulente di Matteo Renzi nonché finanziatore con 62 mila euro della sua fondazione Open. Questo disegno di legge avrebbe dovuto favorire le buone pratiche e contrastare gli illeciti. Invece rappresenta solo un intervento utile al governo per far cassa e aumentare le proprie competenze e il proprio potere su questo settore aumentando la confusione con la creazione di un modello di impresa sociale ibrido che di sociale rischia di avere ben poco. Noi non crediamo in questa visione di società che hanno Matteo Renzi e i suoi amici crediamo in una comunità improntata sulla partecipazione, sulla meritocrazia sulla trasparenza, sulla libertà. Avevamo ben chiaro cosa si doveva premiare e cosa si doveva scongiurare. Avevamo l'occasione di dire al Paese che degenerazioni come quelle viste con mafia capitale non sarebbero più capitate perché questi strumenti normativi lo avrebbero impedito avrebbero impedito di dubitare di un terzo settore virtuoso per colpa di poche mere marce. Ancora una volta questo governo ha perso un'occasione per fare la cosa giusta e ha dato conferma di come l'utilizzo del potere sia esclusivamente indirizzato al perseguimento dei propri scopi e non a favorire la reale ripresa del nostro Paese. Russo è l'opportunità per i cittadini italiani di decidere sul cosa, sul come si debbano spendere i soldi delle loro tasse, sul come si debba riformare i vari settori pubblici e privati.